Allora, alle volte dicono che uno che fa una cosa pubblica dovrebbe dare delle ricette agli altri. Io personalmente non ne ho neanche per me, per cui figuratevi se ne ho dare ad altri. Però una cosa posso dire è che sicuramente c'è una verità consolidata, che di vita ne abbiamo solo una e purtroppo non arriviamo a vivere in certi posti, a vivere in certi tempi, in certi spazi. E lì ci resta la possibilità o forse l'obbligo di sognare. Vieni qua che ti faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo, portati dietro un sorriso, un sospiro, li userai. Vieni qua che potrai galleggiare a due dita soltanto dal fondo, ma se ti mancherà l'aria ti affitto l'America. Vieni qua che non è così facile, perché prima e dopo il sogno c'è, la brisa da vivere, vivere. Vieni qua che non è così facile, così facile, così facile. Vieni qua che non è così facile, così facile. La prossima epoca non è così facile, perché prima è tutto un sogno, c'è la vita da vivere, vivere. La prossima epoca non è così facile, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno. La prossima epoca non è così facile, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno. La prossima epoca non è così facile, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno. La prossima epoca non è così facile, perché prima è tutto un sogno, perché prima è tutto un sogno.